Il titolo, devo ammetterlo, è un titolo a chiappa visioni. Molti metteranno non mi piace, non mi piace, perché hanno visto perché non si può uscire dall'Europa senza neanche aprire questo cazzo di video. Allora, perché non si può uscire dall'Europa? Perché Europa, come America, è il nome di un continente. Anche se in America, spesso si dice in America per dire gli Stati Uniti, i cittadini americani, ok, però America di per sé sono Stati Uniti d'America, si può anche dire Stati Uniti, Stati Uniti, certo, America, c'è una sillaba in più. Per quanto riguarda Europa, tre sillabe, questo conglomerato assurdo illiberale che ci impone delle politiche illiberali e contro il popolo, che si chiama Unione Europea, irriformabile, da cui si può soltanto uscire, abbiamo visto come è andata a finire, al tentativi di riforma dell'Unione Sovietica, e nessuno ha mai pensato di riformare la Germania nazista, o il partito basso in Iraq. Ora, molta gente... Ah, Hitler! Ragazzi, il problema è questo, che le persone che vivono sotto una dittatura, spesso sono quelle più esposte a un tale potenza di fuoco mediatica, di propaganda, che spesso quelli che stanno fuori se ne accorgono. Ora, ovviamente, per adesso non possono fare le cose che faceva Hitler, ma non perché non abbiano nessun problema, non hanno nessun problema morale, perché queste persone e delle persone degli altri non frega niente, tant'è vero che in altri continenti muoiono un milione... insomma, parecchie persone di fame, e l'unica cosa che fanno è lasciare questi video pietosi che ti chiedono un euro al giorno per i bambini che muoiono di fame, quando è una cosa che si potrebbe risolvere a livello mondiale. Certo, quando le risorse vengono prese o espropriate a colpi di mess o altre cose che vanno a finire nelle tasche di persone già ricche, straricche, e su quello loro non transigono i soldi, li vogliono, punto e basta. Quindi, quello che volevo dire è che io credo che Europa è il nome di un continente che si estende da ovest a est, dal Portogallo agli Urali, credo che l'Islanda sia pure... non lo so, l'Islanda sinceramente sia per parte... dalla Scozia fino alla Grecia, alla Creta, e per quanto riguarda Cipro, per alcuni Asia, per alcuni Europa, questo è discutibile. Credo che sia più Asia, però... diciamo, culturalmente, a parte questa cosa dei turchi, era Europa, e poi il fatto che ci stanno i turchi non vuol di niente, perché la parte, diciamo, europea della Turchia è sempre europea. Avendoci ho detto, questa è l'Europa. Chiaro? Per definizione. Ecco perché io penso che Israele non potrà mai entrare nell'Unione Europea, a meno che non lo trasformiamo in un buco nero in cui tutto entra e nessuno esce. Per fortuna uno è uscito, il Regno Unito. Una persona sull'albus, disquisiva, a parte parlava di misogeno, che è una cosa, non è, voleva dire, misogeno. Poi ho cominciato a parlare di uscire dall'Europa e di altre cose del genere. Gli ho fatto notare... Ah, sì, welfare state, gli ho fatto notare che si dice stato sociale, in italiano, vogliono uscire dall'Europa, ma mi pare che non vogliono rientrare nella lingua italiana. Questo no, non vogliono entrare nella lingua italiana. Ora, io non voglio andare agli estremi, tipo del fascismo, che bisogna ogni parola tradurla. Però, non è che, voglio dire, che uno è stato scottato dall'acqua calda, c'è pure dell'acqua fredda. Stato sociale, è sempre detto così. Stato sociale. Welfare state. Previdenza sociale. C'è sempre detto, usciamo queste parole. Il Ministero della Salute. Ma che salute? Sanità. No? No, devono cambiare i nomi, per lasciare tutto uguale. Allora, ripeto. Questa persona, poi quando l'ho sull'autobus, perché una, due, tre, quattro cazzate, e uno gli ha detto, no, vabbè, ma ragazzi, welfare state, ma parliamo italiano. Poi gli ho fatto notare che si dice misogino. A lui ha detto, no, gli ho detto misogino. No, ragazzi, io non ho nessun motivo di inventarmelo. Quella persona non la conoscevo. Purtroppo, fortunatamente, ci sento ancora e ho una buona memoria e quindi ho sentito misogino. Siccome io, come sapete, parlo greco e ci faccio caso, perché in greco, chineca e chienos, sono una con la i, antica y, e un'altra con la i. Sentire continuamente è un abuso, è un cattivo uso della parola Europa. Vi do un esempio, ragazzi, ho visto il telegiornale greco. Gli europei ci aiutano. Ragazzi, ma quali europei? Ma chi? Perché la Grecia sta in Asia o in Africa? Ecco, questo la dice lunga su quello che cos'è. L'Europa. Io non ho mai visto uno Stato degli Stati Uniti che sta, ha un problema per un ragano, un tifone dice che gli americani o gli statunitensi ci aiutano. È inconcepibile. Pensate se una regione italiana avesse un problema e dicesse l'Italia ci aiuta. E grazie a cazzo sta in Italia. Gli europei ci aiutano. Se c'è un problema a Roma, io lo dico i romani ci aiutano. Comunque, gli europei. E i greci che sono? Non sono europei. Io non ho mai sentito negli Stati Uniti dire uno gli americani ci aiutano. Grazie a cazzo. Che vuol dire? Il resto degli europei. L'Unione Europea. Se c'è un problema in Russia e in uno Stato della Confederazione russa il nostro governo ci sta aiutando. No, i russi ci aiutano. Che cazzo vuol dire i russi ci aiutano? Siete russi o fate parte della Confederazione russa? Anche se magari alcuni hanno lingue etiche diciamo sono turcofoni o più o meno anche turcofoni ma insomma questo la dice lunga sul sul senso di appartenenza hanno voluto mettere le mere con le pere e non si può. Ragazzi il solo fatto che siamo sullo stesso continente e ci siamo scannati per secoli adesso non ci scanniamo più grazie a cazzo se tu sei succube di un'altra nazione non puoi fare guerra no? Molto difficile fare guerra a un'altra nazione perché tu essendo inglobata in quella nazione o fai guerriglia o fai terrorismo o non fai un cazzo cioè non esiste e grazie al cavolo che non c'è guerra dentro l'impero romano non poteva esserci guerra perché non poteva svilupparsi un esercito con una potenza militare tale per combattere c'è stato solo il caso di Spartaco basta e poi finita lì l'impero romano è crollato per vari motivi e quando era diminuito potevano esserci anche delle ribellioni interne ma altrimenti sarebbero state assolutamente schiacciate dall'impero romano ecco perché in Europa non ci sarà mai una guerra nel senso classico del termine ma ci potrebbe essere benissimo come sta in parte succedendo in Francia delle rivolte e l'unico modo è che se succedessero queste rivolte da tutte le parti dell'Europa l'Europa crollerebbe ok abbiamo visto il senso di appartenenza dell'Europa e l'aiuto che stanno dando all'Italia per il coronavirus o alla Grecia alla Grecia stanno cercando di dare un aiuto solo perché non li vogliono questi emigranti che possono arrivare nella Germania ma vedete che una volta che sono in Grecia ma col cazzo che li distribuiscono li prendono i tedeschi piuttosto che i francesi non parliamo degli italiani questa è la mia opinione quindi smettiamola di usare la parola Europa per l'Unione Europea e l'Italia non può uscire dall'Europa perché l'Italia è un pezzo del continente europeo arrivederci e l'Italia